Io sono come un bambino nelle mani di suo padre, capito? Ma se il Papa le chiederà di continuare, lei è disponibilissima a farlo? Io ho fiat e salute continuo. Io ho detto al Papa che dopo tutti questi servizi, perché sono stato vescovo in tre diocesi, ho fatto 22 anni il rettore del seminario, ho visitato i seminari d'Italia, ho fatto il vicario generale in una diocese, Padre Santo, ho fatto lo scout che rifaccia sempre lo zaino e ripartiva, sempre la strada, sempre il cammino. Grazie, grazie per questo regalo. Ciao.